Dai! Oh, oh, oh! Darmo lì! Legno, legno! 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 No, ma ci sono i schiassi che sono umidi! Se ti fermi sei fregato! Vai giù! Secondo me è meglio stare sulla destra! Come a te li! Sì, è il giusto, è il giusto. Sì, è il giusto. Sì, è il giusto. Sì, è scivoloso, metti sui piedi e scappano via. Sì, è il giusto. Devi andare avanti di qua. Esatto, fallo perché tu sei in cima.